Buongiorno a tutti, proseguiamo gli incontri di Confcommercio con i leader dei partiti, questo rientra in questo percorso di ascolto e di dialogo di Confcommercio con i partiti. Abbiamo cambiato sede ma non cambia il format, da Roma ci siamo trasferiti a Milano. Io do subito la parola senza indugio al Presidente Sangarli per il suo intervento introduttivo. Prego Presidente. Cari amici, buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui nella sede della Confcommercio di Milano. Do il benvenuto da parte di tutta la Confcommercio all'onorevole Luigi Di Maio, che come voi ricorderete non aveva potuto partecipare alla nostra due giorni di confronto a Roma gli scorsi 13, 14 febbraio e che oggi ci ha chiesto questo incontro e che noi ospitiamo volentieri. La nostra confederazione, caro onorevole, come tu ben sai, è la più grande rappresentanza di impresa dell'Europa, oltre 700 mila aziende associate e siamo una rappresentanza in movimento, in quantità e anche in qualità. Una volta infatti si diceva Confcommercio e si intendeva commercio, il negozio su strada, al massimo all'ingrosso. Oggi si scrive Confcommercio, imprese per l'Italia e si legge commercio, servizi, turismo, trasporti e logistica. Si parla anche di digitale diffuso, servizi avanzati e nuove professioni. Abbiamo quindi la responsabilità di portare la voce di un settore che cambia e che continua ad evolversi, contribuendo al cambiamento della società italiana. Un settore che è inoltre il volto del Paese, che popola con le sue vetrine le strade, le vie, i luoghi, dalle grandi città ai piccoli comuni, ma anche il settore che dà cittadinanza economica alle imprese innovative, alle start-up, ai giovani intraprendenti che vogliono mettersi in proprio e anche alla imprenditoria straniera. Dentro i territori le nostre imprese accorciano le distanze tra i centri e le periferie, ma anche tra tradizione e innovazione. E noi siamo la loro rappresentanza. A me piace ripetere, caro Onorevole, usando un'immagine del calcio, che siamo un po' i centrocampisti collettivi del Paese e dei suoi luoghi. Non siamo abituati a fare il tifo per le parti politiche, ma vogliamo giocare nel rispetto reciproco dei ruoli. Anche questo, come i precedenti incontri che abbiamo avuto, vuole dunque essere un momento importante di conoscenza, di dialogo, di ascolto. Nel documento che poc'anzi io ti ho consegnato dal titolo Un tema, una proposta, le priorità delle imprese del terziario per la prossima legislatura, abbiamo evidenziato 24 temi chiave e le misure per noi decisive per una crescita più sostenuta e per creare condizioni di mercato più favorevoli per la competitività delle imprese. Tuttavia, per noi gli obiettivi urgenti, dei quali si deve occupare, chi prenderà la responsabilità di guidare il Paese sono senza dubbio almeno due. Primo, disinnescare gli aumenti dell'IVA già programmati per l'inizio del 2019, che distruggerebbero qualsiasi ipotesi di crescita, e devono avere la priorità rispetto a eventuali riduzioni di imposte o provvedimenti di sostegno al reddito. Per questo, il rinvio a settembre per motivi tecnici di ogni decisione sulle clausole di salvaguardia non ci rassicura affatto, anzi ci preoccupa per gli effetti negativi che avrà sul clima di fiducia di famiglie e di imprese. La seconda emergenza, introdurre il riporto delle perdite, che oggi è consentito solo alle società di capitale, di introdurlo anche alle imprese in contabilità semplificata che adottano il regime di cassa. È un provvedimento che, come tu ben sai, richiama l'urgenza, perché va preso prima della chiusura dei bilanci 2017 e che interessa 2 milioni di imprese. Alle misure urgenti si affiancano poi le attività necessarie che abbiamo cercato di riassumere nel documento che poc'anzi ti ho consegnato e che, se vogliamo, si possono semplificare anche con uno slogan. Nel nostro Paese vanno combattuti due eccessi, carico fiscale e burocrazia, e due deficit di legalità e di infrastrutture. E su quest'ultimo, sul tema delle infrastrutture, vogliamo ribadire che è decisivo sostenere l'attrattività della logistica italiana, a partire dalle merci che entrano nel Mediterraneo con un efficace sistema intermodale a servizio della competitività complessiva del nostro Paese. E tutto questo nel faticoso, ma indispensabile processo di risanamento dei conti pubblici, con particolare attenzione alla riduzione del rapporto tra debito e PIL. Un processo indispensabile per proseguire il percorso delle riforme avviate in questi ultimi anni. Come abbiamo già detto tante volte, noi siamo molto preoccupati del rischio di una fase di ingovernabilità, perché questo potrebbe far saltare la Pax finanziaria che non credo possa durare molto a lungo. Imprese, famiglie, investitori, l'Europa hanno bisogno di risposte tempestive e solide. In altre parole, bisogna rendere più esplicita la via delle riforme e della modernizzazione del nostro Paese. Ci auguriamo, insomma, il caro Onorevole, ci auguriamo che il nostro Paese possa tornare al più presto a camminare, magari accelerando il passo verso il futuro. E che possa farlo anche con la testa, con le gambe e la passione di quei centrocampisti che, come diceva Gianni Brera, difendono e ricuperano la palla, ma allo stesso tempo contribuiscono a costruire il gioco. Grazie e con piacere io cedo la parola all'Onorevole Luigi Di Maio. Grazie e prima di tutto buonasera. Per me è veramente un piacere poter essere qui e avere la possibilità, tra le mie prime uscite pubbliche, di poter intervenire in questa assise davanti a coloro che portano avanti l'economia italiana, che sono coloro che con le proprie attività contribuiscono maggiormente al bilancio dello Stato. Ma lo faccio anche da una regione simbolo, che è una regione che ha dato anche un grande consenso alla forza politica che rappresento, a testimonianza del fatto, addirittura aumentando in valori assoluti i consensi rispetto a cinque anni fa, la testimonianza del fatto che siamo una forza politica territoriale su tutto il territorio nazionale e non legata ad una parte soltanto dello stivale. Mi interessava venire qui prima di tutto perché mi dispiace aver mancato l'occasione durante la campagna, ma essere qui dopo una campagna elettorale forse ha un peso ancora maggiore, perché adesso è il momento dei fatti, finita la campagna elettorale, di mettersi a lavorare su quelli che sono i principali dossier che riguardano la nostra economia e che riguardano una cosa che avete tutti a cuore che è la stabilità. Prima parlando con il Presidente, che ringrazio anche per avermi permesso di intervenire qui stamattina, oggi pomeriggio, parlavamo sia della stabilità politica che economica. Prima di tutto è un momento in cui per quanto riguarda la stabilità economica tutte le forze politiche sono chiamate ad una grande responsabilità ed è un appello alla responsabilità che anche da qui voglio fare e mi fa piacere che oggi un esponente della Commissione europea come Moscovici abbia detto che non è preoccupato per la situazione politica e economica italiana, c'è bisogno di messaggi distensivi in un momento in cui abbiamo appena avviato tutti i passaggi istituzionali che servono per arrivare ad un governo. Oggi soltanto, dopo circa sei mesi, la Germania arriva ad una votazione di fiducia in Parlamento per il nuovo governo. Io credo proprio che impiegheremo di meno rispetto a quei tempi, ma deve essere ben chiaro che ci sono dei passaggi da fare e il primo è quello del 23 marzo sui Presidenti delle Camere. Se vogliamo parlare di stabilità politica c'è bisogno di seguire quello che è l'iter istituzionale e voglio dire anche che sui Presidenti delle Camere non c'è da giocare una partita di governo perché quelle sono delle figure di garanzia che riguardano il potere legislativo e che dovranno amministrare due palazzi che ai contribuenti costano anche un bel po' di soldi. Infatti io credo che sulla partita dei Presidenti delle Camere più che giocarsi il tema del governo, per esempio, si giocherà un tema come quello dei vitalizi, si giocheranno temi legati ad alcuni costi di cui in passato si è tanto parlato e che adesso con la nuova composizione del Parlamento vedremo che figure al vertice vedrà. Ma soprattutto si stanno per individuare due persone che saranno anche gli interlocutori istituzionali per poi avviare le consultazioni con il Quirinale e poi avviare tutti quelli che sono i percorsi di dialogo tra le forze politiche per arrivare ad un governo. Ho un vantaggio, abbiamo un vantaggio. Io ho fatto una campagna elettorale dicendo agli italiani che non volevo, che non era più il momento di uscire dall'Euro, non abbiamo mai chiesto di uscire dall'Unione Europea e l'ho detto chiaramente durante tutta la campagna e ho detto anche che non volevamo lasciare il Paese nel caos e che non avremmo lasciato il Paese nel caos. Abbiamo ottenuto oltre il 32%, 11 milioni di voti e ho intenzione di portare avanti questa linea che ho portato avanti in campagna anche dopo le elezioni. Ed è anche il grande vantaggio di essere stato chiaro durante i mesi antecedenti al 4 marzo. Che cosa significa? Significa che abbiamo una grande occasione, quella di fare le cose che si aspettano da 30 anni in Italia. Dobbiamo solo cambiare un po' l'approccio. Il giorno dopo le elezioni ho detto chiaramente che sono disponibili a dialogare con tutte le forze politiche e tutti i gruppi parlamentari sia per l'individuazione dei Presidenti delle Camere e sia per quanto riguarda i temi da trattare nella diciottesima legislatura. Voi avete un vantaggio che gran parte dei punti che avete indicato sia nel documento che mi avete presentato oggi ma che avete consegnato nei mesi precedenti sono entrati quasi tutti in tutti i programmi elettorali. Quindi non sarà difficile riuscire ad affrontarli insieme. Ed è per questo che ieri ho lanciato un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche dicendo fatevi avanti. Chi vuole fare cose buone per l'Italia si faccia avanti e ci dica che cosa vuole fare. Prima di parlare del chi parliamo del cosa. E quando dico cambiamo l'approccio è perché di ministeri si parla col Presidente della Repubblica di temi da affrontare per gli italiani si parla tra forze politiche in Parlamento. E portiamo avanti un programma che come ho sempre detto deve tenere al centro di nuovo le questioni che riguardano le persone fuori dai palazzi non dentro i palazzi. Che cosa significa anche stabilità economica per me? Sicuramente dare certezze a chi fa investimenti e chi lavora nel mercato. Sono d'accordo Presidente con la tua esortazione a non rinviare la questione delle clausole di salvaguardia. Quindi nell'ambito di questo dialogo con tutte le forze politiche in Parlamento che riguarderà sicuramente i prossimi due mesi in cui c'è anche il documento di economia e finanze da approvare io chiederò e spero che convengano tutti sul fatto che quelle clausole sull'aumento dell'IVA vadano disinnescate subito e non rinviate per motivi tecnici. Quindi ci auguriamo che quello che è un impegno è un impegno che prendiamo qui possa essere preso da tutto l'arco istituzionale parlamentare anche se non si è formato il nuovo governo. Perché ricordiamoci sempre che comunque anche il documento di economia e finanze verrà presentato dal governo in carica per gli affari correnti ma dovrà essere approvato dal nuovo Parlamento eletto dai cittadini italiani. E questo magari è una grande opportunità non un problema perché può essere una grande opportunità per riportare al centro della democrazia parlamentare i temi e riportare al centro anche la democrazia parlamentare. Oggi ho mandato ai due nuovi capigruppo del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle di iniziare le interlocuzioni con tutti i gruppi politici presenti in Parlamento sia alla Camera che al Senato noi abbiamo più che triplicato il numero di parlamentari rispetto all'ultima legislatura siamo ad oltre 330 parlamentari oggi siamo il primo gruppo del Parlamento e vogliamo amministrare con responsabilità questi numeri perché non sono numeri da opposizione ma sono numeri che proiettano inevitabilmente una forza politica del genere con questi numeri verso il governo del Paese. Ma allo stesso tempo dobbiamo tenere ben chiara una cosa i rapporti con l'Unione Europea il vantaggio di aver detto in campagna che avremo sempre dialogato con le istituzioni europee nell'interesse dei cittadini è che adesso non dobbiamo cambiare linea non fa clamore venirvi a dire che le misure economiche da adottare per l'Italia le porteremo avanti con un'interlocuzione ferma ma collaborativa con le istituzioni europee anche perché credo che a livello europeo abbiamo nuove opportunità non ci sono più governi monolitici come prima per quanto riguarda gli altri Paesi dove ci sono hanno istinto i partiti tradizionali immagino la Francia dove i partiti tradizionali sono ai minimi termini la Germania come dicevamo ha impiegato sei mesi per formare un governo la Spagna e il Portogallo hanno dei governi di minoranza è un momento diverso a livello europeo per affrontare dei dossier importanti per esempio anche quello legato agli investimenti è dagli investimenti che può ripartire l'economia io vengo da una famiglia che ha fatto umilmente per 30 anni piccole imprese e conosciamo bene il valore di uno Stato che investe in determinati asset strategici come le infrastrutture perché da lì può ripartire poi tutta una filiera del mercato legato anche all'attività che voi rappresentate e gli investimenti non sono assolutamente un tabù per il Movimento 5 Stelle grandi, medie e piccole opere utili sono al centro del nostro programma e credo che manchi lo strumento per fare gli investimenti gli altri Paesi hanno strumenti come la Banca Pubblica degli Investimenti che ha consentito negli anni di fare rivoluzioni dal punto di vista economico anche a volte eludendo quelli che sono i parametri deficit-pill proprio perché si utilizzava un istituto di credito pubblico e non direttamente l'investimento dal bilancio dello Stato noi dobbiamo necessariamente rivedere le nostre priorità e le priorità non significa investire in un'area del Paese e definanziare da un'altra non è così anche in questa Regione crollano i ponti sul Po quindi c'è un tema legato a manutenzione investimenti e rilancio di alcune infrastrutture prioritarie che dobbiamo rimettere al centro cioè spendere soldi per fare opere e non fare opere per spendere soldi che è un concetto una filosofia di intervento dello Stato che sembra banale ma più che mai in questo momento si pone e va dall'estremo sud al profondo nord come filosofia da cambiare allo stesso tempo sempre a livello europeo c'è la grande partita secondo me del cominciare a uniformare l'imposizione fiscale perché se oggi è permesso ad alcune piattaforme virtuali di fare concorrenza sleale al commercio dell'economia reale è perché esistono dei paradisi fiscali dove dove quei marketplace vanno a mettere la loro residenza ma questi paradisi fiscali non sono fuori dall'Unione sono dentro e io sono uno di quelli che pensa che si possono dare anche più poteri alle istituzioni europee nell'ambito di una riforma della governance se l'obiettivo è affrontare per esempio un dossier come quello dell'imposizione fiscale che deve essere più uniforme possibile altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione di concorrenza sleale tra imprese di paesi tutte quante all'interno dell'Unione Europea c'è da difendere un tessuto che è un unicum il nostro 95% di imprese sotto i 15 dipendenti con imprese a volte sotto i 15 che sono indotto delle grandi quindi io non ho un pregiudizio verso le grandi so bene che c'è anche un rapporto di sistema ma sappiamo bene che molto spesso la partita europea l'abbiamo giocata male proprio perché si stavano progettando dei provvedimenti su quello che è l'impianto delle piccole imprese francesi e tedesche che hanno 3-4 volte il nostro numero di dipendenti e quindi sono le nostre medie a volte sono le nostre grandi questo tema sarà molto importante ma io non accuso gli altri paesi gli altri paesi hanno fatto i loro interessi in questi anni e ci sono anche riusciti perché hanno portato a casa importanti provvedimenti per i loro imprenditori per le loro attività produttive il tema è il nostro il Parlamento tedesco a Bruxelles ha 45 funzionari noi ne abbiamo due e uno deve andare in pensione dobbiamo cominciare a schierare la squadra in campo mi rifaccio a metafore calcistiche che prima utilizzava il Presidente noi abbiamo mezzo portiere loro hanno 11 giocatori più tutte le riserve è logico che vinceranno sempre loro la partita se non schieriamo i giocatori eppure abbiamo un eccellente corpo diplomatico dei funzionari su cui dobbiamo investire in formazione per portarli a vincere quella partita per cominciare ad affrontare temi come questo ma come quello della contraffazione il tema della contraffazione è un tema europeo perché in un'unione senza confini la contraffazione viaggia tra i vari stati e già cominciare a chiedere che quello che è vietato non debba entrare nel mercato unico già è una grande vittoria perché noi non siamo nella condizione oggi di dover chiedere di vietare l'ingresso di alcuni prodotti no alcuni prodotti è già vietato il loro ingresso per alcuni prodotti il problema è che abbiamo dei sistemi doganali che vanno rafforzati perché sono molto spesso un colabrodo e su questo non credo che sia solo colpa dei sistemi doganali italiani abbiamo dei sistemi doganali anche nel nord Europa che lasciano molto a desiderare e su questo l'agenzia europea che se ne occupa dovrà metterci mano il prima possibile ma deve cambiare l'approccio dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo prima di tutto noi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa un paese fondatore dell'Unione Europea che dà decine di miliardi al bilancio dell'Unione Europea ed è contributore netto questo approccio può cambiare se prima di tutto siamo consapevoli di cosa rappresentiamo per questo io vedo in questa legislatura una grande occasione di cambiamento c'è una grande carica post ideologica che viene dal voto mi permetto di fare un'analisi magari non la condividerete tutti ma una cosa è chiara non è che ci sono elettori di sinistra o di destra che si sono spostati verso il movimento o altri partiti semplicemente i cittadini cominciano a votare chiedendo soluzioni ai loro problemi e non per schieramenti ideologici non è la crisi della sinistra o della destra è la crisi delle grandi questioni non affrontate che i cittadini chiedono di affrontare e sono disposti a trovarle queste soluzioni in qualsiasi forza politica purché le si porta avanti e ieri io alla stampa estera ho detto chiaramente che amministreremo con grande responsabilità questo momento però vogliamo dare anche un'impostazione differente rispetto al passato dove prima si discuteva delle poltrone e poi dei temi adesso è il momento di dirci per esempio convergiamo tutti sul blocco dell'aumento dell'IVA e dimostriamo di avere a cuore gli interessi del paese convergiamo tutti sul tema del ricalcolo e dimostriamo di avere a cuore il paese abbiamo anche un vantaggio che al massimo saranno iniziate le consultazioni in quel periodo non stiamo formando ancora il governo quindi vedremo le forze politiche in maniera pura alla prova dei fatti e quando si affronta un tema come il DEF si possono affrontare tante questioni economiche io lo voglio dire qui in una terra che rappresenta quasi un quarto del PIL nazionale noi non abbiamo intenzione di dare soldi alle persone senza fare nulla quelli erano altri strumenti che io ho visto per anni utilizzati per erogare assistenzialismo noi crediamo nella flex security che significa flessibilità per chi assume e per chi è datore di lavoro ve lo dicevo io vengo da una famiglia che ho fatto piccola impresa non ci siamo mai divertiti a licenziare nessuno ma allo stesso tempo uno Stato che sul modello dei paesi più liberali che ci sono in Europa come l'Inghilterra si è in grado quando un datore licenzia una risorsa di poter prendere quella persona per mano formarla riqualificarla e reinserirla lavorativamente incrociando la vostra domanda con l'offerta che ha censito lo Stato questo strumento qui ha tanti nomi reddito minimo reddito di cittadinanza basic income ma avete da me e avrete sempre la rassicurazione del fatto che nessuno potrà starsene sul divano per partecipare a questi percorsi formazione lavori di pubblica utilità e risposta a tre proposte che verranno da centri per l'impiego totalmente riformati c'è un vantaggio per chi è datore di lavoro che finalmente si vede sgravato dell'onere della formazione del dipendente che assume perché me lo insegnate potete prendere chiunque esca da istituti tecnici da facoltà voi dovete riformarlo da zero per quello che vi serve e la formazione è a carico dell'impresa che non solo paga le tasse più alte di tutto il mondo industrializzato ma allo stesso tempo deve caricarsi anche dell'onere della formazione del dipendente che assume e allora quell'onere lì noi lo vogliamo eliminare per le imprese facendo funzionare finalmente degli strumenti che oggi sono inadeguati a volte sono anche un'umiliazione per chi cerca lavoro che sono i centri per l'impiego molto spesso chi lavora al centro per l'impiego è un precario a sua volta che cerca lavoro quindi è un paradosso nel paradosso questo strumento qui non è uno strumento legato all'assistenzialismo e lo voglio dire qui con coraggio perché so che voi siete persone del fare che ogni giorno vanno a lavorare aprono la propria impresa e sono preoccupate magari dall'idea che ci possa essere uno Stato che utilizza i soldi delle vostre tasse per dare soldi a qualcuno che non vuole fare nulla quelli erano altri strumenti che abbiamo chiamato a volte ammortizzatori sociali assistenzialisti qui bisogna cambiare il paradigma e ispirarci ai paesi liberali che utilizzano la flex security anche per evitare la crisi sociale nel caso del licenziamento di un dipendente o di tanti giovani che non riescono a trovare lavoro a questo si aggiunge un'altra cosa che è la spending review so che voi anche il Presidente stamattina in un'intervista ha parlato sia di revisione che di riqualificazione della spesa pubblica è molto importante è un tema che abbiamo molto a cuore prima di parlare di parametri e di sforamenti del deficit andiamoci a prendere i soldi dal bilancio dello Stato che si stanno spendendo male andiamoci a prendere i soldi da dove in tutti questi anni si sono sprecati o appunto si sono investiti male e cominciamo a investirli nei settori strategici che non riguardano soltanto credo gli investimenti economici ma riguardano anche gli investimenti legati all'istruzione legati alle nostre scuole alle nostre università io ho visitato e ho avuto l'onore di visitare in questa regione varie aziende che stanno fornendo i macchinari di industria 4.0 alle nostre imprese italiane e loro mi hanno sempre detto è vero che noi sostituiremo l'uomo con una macchina ma per maneggiare quella macchina abbiamo bisogno di altri uomini e oggi non riusciamo a trovare le competenze che ci servono e quando gli chiedevo se servisse un nuovo master una nuova facoltà una nuova università loro mi dicevano sempre basta che rimettiate in sesto i vecchi istituti tecnici e commerciali che erano molto competitivi a livello europeo e sono diventati la cenerentola dell'istruzione italiana prima di fare nuove leggi io parlerei di iniziare a finanziare vari settori mi permetto di dirlo perché voi siete vittime tutte tutti della burocrazia ma la burocrazia è stato un atteggiamento culturale prima di tutto del Parlamento e soprattutto negli ultimi 5 anni il ritmo di produzione delle norme era una nuova legge ogni due giorni e mezzo nella 17esima legislatura che si sommava alle circa 180.000 ma nessuno lo sa quante siano veramente 180.000 leggi a livello nazionale più le leggi regionali più le normative europee il punto è che ogni 12 ore ogni 20 ore cambiavano le leggi e cambiano le leggi voi avete professionisti che pagate esperti che pagate per riuscire a districarvi in questa giungla ma anche il professionista ha seri problemi in questo momento perché mentre sta analizzando una legge che si applica al vostro problema c'è anche il grande tema che quella legge cambia è capitato a volte anche col mio commercialista che mi dicesse guarda vediamoci tra una settimana tanto la cambieranno sicuramente questa settimana la legge e facciamo il punto tra sette giorni io non credo che la 18esima legislatura debba essere una legislatura in cui si producano tante leggi deve essere una legislatura che faccia il giusto dal punto di vista della produzione normativa ma che cominci ad abolire tutte quelle che stanno rendendo la vita un inferno ai cittadini italiani a partire da quelle leggi che dovevano combattere gli evasori ma stanno combattendo le persone che hanno sempre pagato le tasse spesometro redditometro split payment studi di settore non vanno sostituiti con altri strumenti vanno aboliti e basta per quanto mi riguarda e se vogliamo fare se vogliamo fare un grande lavoro di lotta all'evasione iniziamo a digitalizzare e a incrociare le banche dati della pubblica amministrazione perché attraverso l'incrocio delle banche dati avremo uno spaccato del paese e anche per questo voglio dire una cosa sarà molto importante in questa legislatura il merito nelle nomine ai vertici delle partecipate di Stato perché ci sono importanti nostre partecipate che fanno proprio questo lavoro qui e sarà molto importante non far cadere quelle partecipate nell'ottica della lottizzazione politica ma cominciare a privilegiare il merito per permettere sviluppo perché sulla partita delle nomine ai vertici delle partecipate non si gioca né il governo né gli equilibri di potere né gli equilibri tra maggioranza e opposizione si gioca lo sviluppo dell'Italia e abbiamo fior fior di società pubbliche che possono vincere grandi sfide a livello nazionale e internazionale e molto spesso sono le nostre vere ambasciate all'estero e se vogliamo parlare di sburocratizzazione dobbiamo parlare di un atteggiamento culturale diverso in cui si fanno poche leggi e quando si fa la legge di bilancio i documenti di programmazione economica si danno certezze di investimenti di tassazione per tre o quattro anni perché il tema non solo della retroattività delle norme che riguardano il fisco ma anche il numero di norme che si fanno su questo settore che moltiplicano le tasse è un problema reale io ho sentito parlare il presidente della local tax il tema di prima di tutto parlare di ridurre non solo di ridurre le tasse ma di ridurre il numero di tasse quante ne sono quante ne paghiamo per finanziare quanti enti è fondamentale per riuscire anche a dare serenità alle attività produttive si potrà fare tutto io l'ho detto dal palco della chiusura della mia campagna elettorale io non assicuro che sarà sempre rose e fiori questa legislatura ma posso dirvi che oggi ci sono le condizioni politiche economiche e sociali per riuscire a dare una svolta all'Italia dobbiamo cogliere questa opportunità tutti come forze politiche mettendo anche nero su bianco i temi che vogliamo affrontare partendo da quelle che sono le principali questioni economiche che non richiedono tante nuove leggi ma una buona legge di bilancio una buona programmazione economica e soprattutto un'interlocuzione con le parti l'ho detto in tutti gli anni in cui sono stato vicepresidente della Camera le organizzazioni di rappresentanza devono avere l'opportunità di incidere nel processo legislativo davvero e non attraverso soltanto le audizioni in commissione che sono uno strumento novecentesco in cui molto spesso la politica si lava la coscienza dicendo di aver ascoltato tutti ma una cosa è sentire e una cosa è ascoltare e iniziare iniziare ad ascoltare significa come in altri paesi europei quando è iniziata la crisi dei parlamenti dieci anni fa iniziare a mettere al centro coloro che sono portatori di interessi sani della nostra società e dargli anche la possibilità di presentare proposte di modifica ai singoli provvedimenti ma davvero non come i faldoni che ci lasciate in commissione voi ci portate perché avete dieci minuti per il vostro intervento poi dopo dieci minuti vi lascio un dossier quel dossier si accumula insieme a tutti quanti gli altri c'è chi ascoltava chi sentiva chi non c'era molto spesso il provvedimento va avanti e poi scopriamo dopo l'approvazione che va modificato per non parlare poi di quello che va attuato lo statuto delle imprese è ancora in gran parte mi rivolgo al direttore disapplicato andrebbe prima di tutto attuato dovremmo fare un grande lavoro in questa legislatura di attuazione delle norme esistenti che aspetta l'Italia da tanti anni alcune approvate dieci anni fa anche dei buoni dei buoni provvedimenti che non hanno raggiunto l'obiettivo del vedersi attuati è qui che è nata la crisi della politica quando le istituzioni addirittura approvavano dei provvedimenti ma coloro che ne erano i destinatari non ne vedevano ancora i vantaggi perché tra l'approvazione e l'applicazione c'era l'attuazione che sostanzialmente i ministeri avevano bloccato e anche su questo dovremmo inventare nuove norme all'interno dei ministeri per cui chi non fa il proprio dovere sull'attuazione deve ruotare nel proprio incarico e consentire quindi l'attuazione e non lo status quo o la la posizione di rendita del singolo funzionario senza voler attaccare nessuno perché credo che il grande lavoro da fare sulla pubblica amministrazione sia cominciare a rivalorizzare quelli che hanno avuto il coraggio negli anni di dire no e sono stati chiusi in qualche sgabuzzino e forse cominciare a diffidare un po' dagli yes men che sono quelli che poi hanno fatti grandi guai sulle grandi leggi che hanno interessato anche il vostro settore la tassazione non è solo l'IVA ma è anche un nuovo modo di considerare il costo del lavoro noi non saremo competitivi mai perché possiamo robotizzare quello che vogliamo ma il made in Italy non si può robotizzare l'artigiano non è robotizzabile passatemi questo questo termine e questo è un grande vantaggio perché nell'era dell'innovazione tecnologica noi potremo reggere nei livelli occupazionali anche perché tutte quelle che sono le grandi competenze artigiane del nostro paese continueranno ad esistere ma è chiaro che non può costare il doppio del netto che io do in busta paga al dipendente il made in Italy perché non regge perché rischiamo delocalizzazioni rischiamo una fuga di brand dall'Italia e qui ci servono delle scelte coraggiose da concordare con Bruxelles ma che mirino all'abbassamento del costo del lavoro cominciando da quelle che sono le professionalità del futuro e quindi e non sempre la professionalità del futuro è una professionalità che deve chiudere col passato è un momento in cui tante professionalità del passato stanno diventando la grande occasione di sviluppo economico del futuro dobbiamo rivalorizzarle ma soprattutto renderle competitive con gli altri paesi europei e anche con i paesi extra europei insomma ci sono tante cose da fare io sono qui il giorno dopo le elezioni a prendere l'impegno del massimo dialogo e della collaborazione lo dico da primo gruppo parlamentare del Parlamento italiano lo dico da prima forza politica del paese con oltre il 32% ma lo dico soprattutto da persona che ha rappresentato le istituzioni per 5 anni ne conosce il valore conosce anche il valore delle parole degli impegni che prende un rappresentante istituzionale di fronte ad una realtà grande e complessa come la vostra e la mia visita qui è prima di tutto una conferma del fatto che dal punto di vista istituzionale e politico ci siamo lavoriamo insieme e facciamo il meglio per l'Italia grazie